Il Fiat Panda Secondo una prima ricostruzione lo ha mortato la vettura lateralmente. Sul posto sono subito intervenuti i 118 e i carabinieri, inutili tentativi di rianimare il pensionato. Il conducente della vettura, sotto shock, è stato trasportato all'ospedale di Rivoli, accertamente in corso da parte dei carabinieri. Il Fiat Panda